La revoca del reddito di cittadinanza è stato detto è avvenuta da un giorno all'altro, è stato un fulmine a ciel sereno. Ma questo è falso, perché quello che noi abbiamo fatto era non solo scritto nel programma di governo del centrodestra, ma era inserito nella legge di bilancio che è stata varata lo scorso dicembre e tutti erano a conoscenza del fatto che in forza della legge di bilancio approvata a dicembre, nel 2023 il reddito per le persone di cui sopra sarebbe cessato dopo sette mesi. E allora si è detto, le persone che perdono il reddito perché sono in grado di lavorare vengono lasciate da sole. Ma anche questo è falso, perché per queste persone parte il primo di settembre il nuovo supporto per la formazione e il lavoro, per aiutarle a essere inserite nel mercato del lavoro. In cosa consiste questo strumento? Consiste nell'iscrizione volontaria a una piattaforma che ti dà accesso a diverse possibilità, partecipare a un programma di formazione durante il quale si percepisce anche un beneficio economico di 350 euro mensili, oppure la possibilità di partecipare al servizio civile nazionale anche oltre l'età che viene normalmente consentita per il servizio civile, cheppure il servizio civile riconosce un beneficio economico, la possibilità di partecipare a progetti di pubblica utilità anch'essi con il riconoscimento di un beneficio economico. Quindi ci sono comunque delle opzioni per chi abbia chiaramente voglia di darsi da fare, chi si iscriva alla piattaforma, sempre che intanto non abbia trovato un lavoro.